ciao mario bentornato innanzitutto ciao costantino grazie allora io non potevo non chiamare mario perché mps o aspetta com'è che la chiamata monte delle sofferenze la roba di monte popolare di sofferenze o delle sofferenze esatto ogni tanto ritorna ma in realtà perdonami perdonami in sbagliato perché dovevo chiamarlo monte populista delle sofferenze visto il registro linguistico di comunicazione con cui è accompagnata ogni psicodramma reiterato diciamo di questa povera banca è fantastico è fantastico facevo questa considerazione mario per chi come noi fa il mestiere fondamentalmente di osservatore di certi fatti della politica e non soltanto della politica economica italiana il mestiere è molto semplice perché come hai fatto tu in questi giorni basta riprendere cose che avevamo scritto un po di tempo dietro perché non cambia niente tempo passa le sofferenze si accumulano i problemi non vengono mai risolti la politica regisce in un certo modo che adesso racconterai e racconteremo quindi ci basta prendere quello che abbiamo scritto qualche anno fa e riproporlo non dobbiamo neanche lavorare non dobbiamo neanche faticare sì sì dio benedica l'archivio esatto esatto allora che succede siamo all'ennesima tra l'altro domani c'è daniele franco che riferisce in parlamento sì vai alle 20 ma eh che dire mh siamo di fronte all'ennesimo psicodramma della politica tutta mi pare non ci siano eccezioni di rilievo ehm nel senso che la vedono come una svendita in realtà perché il momento non è giusto quindi questo è il contrario di quella famosa pubblicità questo non è crema e gusto ogni momento è quello giusto questo in realtà è crema e disgusto ogni momento è quello assai poco giusto però al di là dei calambur diciamo che noi usiamo per farci forza rispetto ai miliardi di soldi dei contribuenti che stanno volando via diciamo la vendita era prevista dalla stessa ricapitalizzazione precauzionale con la quale nel duemiladiciassette Piercarlo Padoan e il governo Gentiloni strapparono alla Commissione europea alla Vestager appunto questa opzione che evitò alla banca di fare la fine delle due venete anche se a onor del vero io so che questa mia frase potrebbe avere già irritato molti perché dicono le due venete erano fallite il monte dei Paschi no eh tra l'altro alcuni direbbero le due venete erano fallite perché le hanno fatte fallire però così come vedi andiamo ad affastellare no elementi di cospirazionismo non ne usciamo più la mia tesi di questo periodo allora abbiamo speso cinque miliardi e mezzo no tra un limitato burden sharing con ristoro parziale di alcune categorie di azionisti obbligazionisti abbiamo speso soldi della ricapitalizzazione del duemiladiciassette poi c'è stato lo spostamento di più tranche di sofferenze perché la banca continua a produrre sofferenze quando nel duemiladiciassette la banca fu salvata con ricapitalizzazione precauzionale ci fu un primo ehm trasporto di sofferenze conclamate e tuttavia c'erano in pancia i cosiddetti unlikely to pay cioè quelli che non sono ancora sofferenze ma ahimè lo sono diventate e per cui c'è una sorta di eh radioattività di fondo diciamo no nel portafoglio crediti che non ha fatto che evolvere ma era previsto che la banca alla fine del ventuno cioè alla fine di quest'anno sarebbe stata riportata sul mercato questo era una cosa che si sapeva allo stesso modo in cui si sapeva che la politica italiana avrebbe trovato in prossimità della fine del duemilaventuno n motivazioni di cause di forza maggiore immaginarie per dire non possiamo precipitarci a vendere ora dopo solo quattro anni dal salvataggio lasciami dire che se tu eh tu commissione europea autorizzi un'operazione di questo tipo e metti già un termine rigido di reimmissione sul mercato beh filosoficamente e operativamente diciamo che chi vende non è mai agevolato a meno che la banca non stia facendo numeri eccezionali però al di là di questa piccola considerazione abbiamo visto nei giorni scorsi lo stress test no della dell'eba che ha confermato quello che si temeva cioè che montepaschi nello scenario avverso praticamente azzera il common equity tier one quindi ha un buco di due virgola sette miliardi a questo punto che cosa è successo che prima ma in realtà probabilmente nelle segrete stanze si sapeva già l'esito dello stress test no è uscito lo scoperto unicredit per bocca del suo amministratore delegato andrea orcel che tra l'altro ricordiamo fu tra quelli fu tra i rainmaker che agevolarono la cessione di anton veneta al monte paschi illo tempore no in quanto investment banker e quindi adesso in una delle sue numerose reincarnazioni si trova bizzarramente nella possibilità di comprare la banca e ha detto ha comunicato in maniera assolutamente unilaterale perché il mef non ha comunicato alcunché questo è singolare no ovviamente non c'è stata notifica a brussell perché è semplicemente l'apertura in esclusiva della data room a unicredit e quindi di per sé questo è un procedimento è l'annuncio di un procedimento propedeutico ad una eventuale transazione da lì in avanti ci sono state le solite voci di dentro o di fuori che hanno cominciato a parlare di esuberi tra 5 e 7 mila persone le famose fonti che non si sa dove siano se sono fonti di montagna di quale tipo di sorgente eccetera però chiaramente orcell ha detto delle cose molto evidenti e ben delimitate intanto operazione capital neutral cioè non deve fare aumenti di capitale deve essere earnings accretive cioè deve accrescere l'utile per azione sarà selettiva in una maniera tale da identificare un perimetro ma questo è banale perché è esattamente la riproposizione dell'operazione che fece intesa con le venete è identica con in più una parte di operazione elastico nel senso che orcell ha detto che anche se prendiamo crediti in bonus che fanno parte della rete commerciale che abbiamo ad acquisire dobbiamo avere un congruo periodo temporale per restituirli in caso non ci piacessero più allora siccome noi nel frattempo abbiamo avuto il covid e le garanzie statali che oscillavano tra il 90 e il 100 per cento poi adesso sono state hanno avuto un decalage a 80 su alcuni rinnovi immagino che si riferisca anche ma non esclusivamente a quel tipo di garanzie perché è fatale che in una congiuntura come questa quando verranno sganciate le garanzie un numero considerevole di aziende rischia di morire per cui vai a rigenerare sofferenze quindi se orcell si porta in casa come dire qualcosa che poi genera spontaneamente sofferenze è chiaro che lui deve rafforzare no la sua il suo criterio ma a parte ciò per non farla troppo tecnica da questo momento in avanti c'è stata una levata di scudi ripeto pressoché unitaria della politica con le solite motivazioni si parla di svendita ora io che comunque per la lingua italiana ho ancora un certo rispetto però mi rendo conto che la lingua è uno strumento potente di manipolazione ero rimasto che per parlare di svendita bisogna avere una price discovery no rispetto alla quale tu vai sul mercato con un prezzo significativamente inferiore ma qual è la price discovery del monte paschi cioè qui non è che parliamo di badwill qui parliamo di qualcosa che ha un valore negativo cioè i contribuenti devono pagare il compratore il dottor orcel e unicredit basta tuttavia tu interrompimi pure perché io non vorrei come dire con questo volevo solo una considerazione su un passaggio che hai fatto giustamente tu dici la commissione europea dà un termine per concludere la remissione di questo sessantotto per cento di detenuto dal tesoro sul mercato e quindi in qualche modo ne frena virgolette la valorizzazione possibile esatto quello che a me però fa questa specie è che i nostri politici sono bravissimi a lanciare in là la lattina no chiedere tempo salvo che arrivano poi le scale in sé e dicono oh mamma mia esatto no perché è un gioco delle parti eh certo certo esatto e poi c'è il discorso appunto della svendita perché qualunque cosa qualunque porcheria piena di spazzatura e piena di asset deteriorati venga rimessa sul mercato perché le regole ce le impongono diventa come dici tu una svendita ma che cosa stiamo svendendo sì anche perché ehm scopro che ci sono numerosi politici che sono eh dei bravissimi investment banker nel senso che loro sanno già come gestire la cosa per esempio è da parecchio tempo che Carla Ruocco del Movimento Cinque Stelle che giustamente si è fatta porre alla presidenza della commissoria di indagine sulle banche la cui utilità mi sfugge ma alcune dinamiche invece mi sono molto chiare aveva detto già oltre un anno addietro che si poteva a prendere eh diciamo alcune filiali aggregarle al medio credito centrale nell'operazione meridionale che ha portato al salvataggio della Popolare Bari tra l'altro Popolare Bari che credo abbia mantenuto il brand cioè non è che Popolare Bari è diventata medio credito centrale no Popolare Bari è rimasta allora in più diceva Ruocco ehm possiamo espungere le sofferenze del Monte Paschi e conferirle a Danco cioè come se praticamente metà di Monte Paschi diventa una bad bank di sistema vista l'expertise nel generare sofferenze in Cagli un'altra parte non mi è chiaro ovviamente le filiali meridionali ma in questi giorni sta emergendo che Orcell non le vuole ovviamente perché vanno in capo a questo network del medio credito centrale diventano una banca del mezzogiorno no a tutti gli effetti ma adesso c'è un altro problema il problema delle famose elezioni suppletive no a Siena dove ci sarei arrivato infatti a loro del PD e delle suppletive ci sarei arrivato esatto sì sì dove il povero Enrico Letta pare che gli avessero detto non ti esporre lì che lì è un problema quando Gualtieri diverrà sindaco di Roma Gualtieri abbandonerà il seggio si faranno le suppletive a Roma in un collegio che è ultra blindato e tu vai lì ma Letta comunque che una persona di animo nobile diciamo oppure non vede i tranelli oppure non lo so mettiamo X ha detto no perché sarebbe diserzione non è chiaro sotto quale aspetto in realtà in realtà secondo me i senesi che lo hanno chiamato no il PD senese lo ha invocato perché lo hanno invocato beh secondo me perché hanno detto se abbiamo il segretario del partito nostro parlamentare questa è un grande jolly da giocare quando verrà il momento di vendere alla banca e il problema è che il timing ha mandato tutto a rotoli perché Orcella ha annunciato prima prima non so di quando perché le suppletive quando sono a ottobre se non sbaglio non so adesso non ricordo ma quindi che cosa succede adesso dicono trappola contro Enrico Letta non scherziamo trappola contro i contribuenti italiani non contro Enrico Letta e quindi questo è un problema oggettivamente perché anche Brunetta Brunetta ogni tanto viene fuori perché ha questa vocazione diciamo vedere i complotti ricordiamo che adesso Brunetta è come dire il miglior amico di Draghi probabilmente perché i due si conoscono da tempo e si stimano reciprocamente però ricordiamo che Brunetta è comunque la persona che quando vi fu il discorso che Deutsche Bank aveva venduto quei sette miliardini di BTP in un trimestre Brunetta fu il primo a salire sulle barricate a dire che c'era oggettivamente qualcosa contro il nostro paese quando in realtà vendeva il mondo i BTP quindi Brunetta ha detto ma era il caso di annunciare adesso l'apertura della data room a favore di Unicredit e anche quello crema e disgusto nessun momento è quello giusto cioè per i politici c'è sempre una orologeria no c'è sempre un orologeria c'è sempre qualche entità superiore che complotta contro la politica io dico avete avuto quattro devo dire che qualche giornale anche titolato che Daniele Franco ha come dire eh messo in atto un'accelerazione di questa cosa mi sembra nei tempi in realtà non per difendere il map ma mi sembra assolutamente nei tempi che oggi si cominci a parlare di una scadenza che è fra meno di sei mesi per un'operazione del genere assolutamente e quindi io l'altro giorno quando è uscito lo stress test ho fatto la battuta beh ma se nello scenario avverso i risultati sono così tragici perché non invocare l'ennesima ricapitalizzazione precauzionale qualcuno mi ha preso sul serio ma pare che mi abbia preso sul serio niente meno che Morgan Stanley che pare che sia uscita io non l'ho vista leggo da fonti di stampa perché non ho accesso a quella ricerca che in una nota di ricerca ha detto che lo Stato italiano potrebbe invocare la forza maggiore del Covid e farsi approvare una ricapitalizzazione precauzionale che gli permetterebbe di fare il minority buyout e quindi di ricapitalizzare al cento per cento la banca col capitale necessario allora io non so che dire però se ogni circostanza adesso capisco che questa pandemia come dire come forza maggiore è bella robusta per cui potrebbe anche essere come dire non esattamente un alibi tu dici guarda che culo che ha questa gente ogni volta per dire un meteorite colpisce l'Italia e lo e la cancella dalla faccia del pianeta che culo potremmo invocare la forza maggiore avere una moratoria sul debito però cioè dopo saremo già tutti morti quindi questo è il paese dove ci sia entusiasma per la forza maggiore degli eventi avversi catastrofici non dimentichiamo no perché questo è il paese che ancora c'è molta gente anche direttori di giornali editorialisti che dicono perché noi valiamo abbiamo avuto il maggior importo del recovery fund e grazie al cavolo perché siamo in condizioni drammatiche e lo eravamo da prima della pandemia non è un titolo di merito siamo entrati nella lista dei beneficiari netti dei fondi comunitari anziché dei contributori netti cioè ci stiamo impoverendo ora che cosa ci sia da festeggiare per il nostro impoverimento a me sfugge però va bene insomma perché ormai siamo a un livello di manipolazione devastante esatto esatto sì poi c'è la appunto eh ancora due cose Mario allora prima la prima cosa eh i politici che litigano eh litigano su tutto che fanno a botte metaforicamente e qualche volta in Parlamento non sono metaforicamente su qualunque cosa quando c'è un Monte dei Paschi un Alitalia un Ilbe eccetera eccetera hanno tutti la soluzione e e hanno la soluzione che oggi su un editoriale su domani mi pare ehm che anche tu hai che anche tu hai 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 postato di eh Giovanna Fagionato eh Giovanna Fagionato scrive giustamente diciamo la verità su MPS e usciamo da questo loop del racconto magico esatto infatti a me io ho fatto i complimenti a Giovanna perché come tu sai io il concetto di pensiero magico applicato alla politica italiana lo utilizzo da quando scrivo sul mio sito quindi trovarlo citato mi ha fatto piacere però è così proprio puro pensiero magico assolutamente quindi la politica regisce più o meno tutto allo anzi esattamente allo stesso modo perché appunto ci sono i gioielli che rischiano di essere svenduti magari allo straniero cattivo eh i gioielli che devono rimanere nel perimetro pubblico il presidente della Toscana che parla di risultati positivi di MPS come se tutto quello la porcheria che è stata accumulata cioè gli errori eh non non diciamo porcheria sono qualcuno si incazza eh gli errori e quindi tutte le sofferenze che sono state accumulate possano essere in qualche modo cancellate con un tratto di penna con una sorta di moratoria omnibus no? C'è questo atteggiamento che veramente è è fuori dal mondo cioè fuori dalla realtà prima o poi qualcuno poi ci sbatte contro questa realtà che racconti molto spesso. Sì sì ma guarda io adesso non ho letto le interviste di Gianni per cui mi rifaccio all'articolo di Giovanna Fagionato ma che lui abbia detto Montepaschi un esempio di buon governo finanziario e le sofferenze sono relative ad una decina di anni addietro temo che non sia come crede lui o come gli hanno fatto credere lui o come lui crede di far credere a qualcuno perché cioè non è così ma il punto vero e lo sappiamo tutti no? È che purtroppo eh ci sono in direzione generale a Siena duemila cinquecento duemila seicento persone altre circa quattrocento si trovano nelle filiali anche diciamo dell'area urbana allargata comunque della provincia e quindi parliamo di tremila persone parliamo di duemila e cinque di direzione generale di una città di cinquanta quattromila abitanti quindi parliamo del cinque per cento della popolazione non attiva ma del totale della popolazione compresi neonati e ultracentenari quindi è oggettivamente un evento catastrofico d'altro canto eh voglio dire questi esuberi probabilmente verranno gestiti con il fondo di solidarietà bancario che diverrà incapiente e verrà integrato dallo Stato no? Non ci saranno licenziamenti dopodiché se tu mi dici poi ci saranno dimissioni incentivate cioè voglio dire a me pare che il tessuto economico senese non necessiti della banca per restare vivo poi se vogliamo dirla io sono persino riuscito a leggere da persona comunque che Siena come Taranto ragazzi magari Siena ha un po' più di diversi forse perché non so perché Siena che cos'ha? L'università c'ha il polo biotech stamattina o ieri mattina leggevo un'intervista di Misiani del PD che diceva che lo Stato potrebbe potenziare l'attività del biotech per favorire le l'occupazione sì a patto di non credere che i bancari in uscita dal Monte Paschi vadano a lavorare nel biotech perché quello è un caso di skills mismatch che è quasi pari a quello dei politici che dicono ste cose però cioè qui siamo sempre il problema è sempre quello no? Hai visto anche la situazione surreale della fondazione Monte Paschi che cita in giudizio la banca chiede alcuni miliardi dopodiché transa a 150 milioni che poi uno avrebbe potuto dire alla fondazione scusate a parte che voi eravate i controllanti della banca quindi adesso avete pure da ridire nel senso che ritenete di essere stati fuorviati nei tre aumenti di capitale che ci sono stati ma qui mi pare veramente un cortocircuito ma a me fa impressione questa transazione a 150 milioni su una richiesta di 4 miliardi vabbè tu dirai capita perché tutti chiedono no mille mila milioni e dopo di che ci sia tutti ci si accorda però uno dice abbiamo risolto ma la verità è veramente io ho iniziato a scrivere questa cosa un anno fa un anno e mezzo fa l'esito del Monte Paschi è uguale a quello delle Venete solo più oneroso per i contribuenti ergo noi abbiamo perso quattro anni abbiamo perso quattro anni se poi il problema è io capisco direzione generale di Siena perderà molte persone ok il marchio il marchio verrà tenuto il marchio verrà tenuto diventerà una divisione e probabilmente manterrà una parvenza di autonomia però ragazzi noi non possiamo onestamente tenere un paese sotto scacco per la sfortuna di una città no chiamiamo la sfortuna io ti dico solo una cosa se la fondazione Monte Paschi avesse investito in un etf sul Morgan Stanley World i proventi della privatizzazione della banca nel 99 adesso Siena sarebbe più ricca del Lussemburgo e di Singapore messi assieme adesso mi diranno che questa mia è una considerazione assurda perché ci sono le ricadute sul territorio ho capito ma anziché andare a dare i mille euro di erogazione alla bottega Pinocchio o diciamo a all'accademia dei rintronati lì no intronati esiste rintronati l'ho creata io ma cioè voglio dire ragazzi lascia che lascia che lo dica io fuori la politica è terrorizzata dal perdere il controllo indiretto su una su un player bancario e in qualche modo ci vuole rientrare no anche tutte quante le fuga in avanti da parte degli altri con la banca per il sud la banca pubblica per gli investimenti e di qua e lo spezzatino e popolare di Bari che si deve comprare gli sportelli e quell'altro carriage e poi non mi ricordo quale altra banca è stata citata in modo che oltre anche che facciano che facciano che creino un nuopolo la verità secondo me è questa la politica vuole avere denaro da maneggiare e una banca con i suoi sportelli con le sue diriamazioni con tutto quanto il resto fa quello a cui la politica pensa costantemente che è consenso io così la vedo perché questa è poi anche la storia di Montepaschi non soltanto di Montepaschi certo ma sì sì assolutamente anche se adesso tutti dicono che il nostro sistema bancario è stato danneggiato dalle direttive dell'Unione Europea in realtà il nostro sistema bancario è stato danneggiato da un sistema di relazione di networking che sappiamo tutti quale era soprattutto nelle banche locali le famose banche del territorio che conoscono quanto e più di chiunque altro le condizioni del territorio infatti si è visto però io in questi giorni sento politici ma Salvini ma non solo Salvini che dice dobbiamo unirla alle banche liguri pugliesi calabresi siciliane libanesi così facciamo il blocco del Mediterraneo cioè ma vi rendete conto cosa state enumerando Carige Carige è tornata in quotazione tra l'altro con un flottante risibile quindi ogni tanto strappa il giorno dopo ci sono i titoli sui giornali Carige non si ferma più e le daremo il premio dei 3.000 siepi ma perché perché deve fare un aumento di capitale allora hai visto mai che magari riesce a tirar su flottante eccetera ma Carige non mi pare esattamente fuori dai problemi allo stato attuale no per cui io onestamente la stiamo svendendo e non sappiamo quanto è il valore economico unicredit la sta portando via si sta facendo pagare ho capito ma se voi portate una banca per mancanza di controlli per mancanza di tutto quello che volete a un livello di decozione la banca non è semplicemente decotta la banca diventa radioattiva perché la banca non è una salumeria una banca è molto più pericolosa di Alitalia una banca in dissesto permanente molto più pericolosa di Alitalia e quindi io onestamente guarda io mi auguro che Draghi risolva che tutta questa sceneggiata bene o male alla fine si risolva naturalmente vedo che già sta uscendo e però Draghi era governatore della banca d'Italia quando Montepaschi ha comprato Anton Veneta e quindi è corresponsabile ma può darsi che questo paese siamo tutti corresponsabili nel momento in cui veniamo al mondo noi e prendiamo e abbiamo la cittadinanza noi siamo corresponsabili però questa cosa va chiusa qui occorre uno stop loss perché altrimenti questa sarà una catastrofe per il paese secondo me Draghi la va a chiudere la va a chiudere terranno il marchio non lo so io assumeranno le eccedenze non lo so in qualche attività socialmente utile ci sarà una moltiplicazione di agriturismi nel senese con contributi pubblici non mi fare dire queste cose però però alla fine in un modo o nell'altro in un modo o nell'altro ne verranno a capo perché io onestamente come contribuente italiano mi sono stancato di queste vicende mi sono veramente stancato ILVA è ancora lì appesa in mezzo al cielo no siamo passati dagli alto forni ai forni elettrici al preridotto all'idrogeno tra un po' ILVA sarà antesignana della fusione nucleare no altro che il CERN però è ancora lì giusto per dare una dimensione se lo ricordi quante volte è stata salvata Montepaschi cioè da quanto tempo va avanti fra capitalizzazione ricapitalizzazione fra bond tre monti bond eh sì tre monti bond monti bond poi c'è stata una sequenza di aumenti di capitale che poi sono quelli contestati poi c'è stata la ricapitalizzazione per causa diciamo il denaro pubblico ha cominciato a entrare manifestamente nel diciassette prima stavano cercando di 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 stare in piedi però cioè vedi bene no cioè io mi ricordo quando scopriò il casino delle venete molta gente anche sui blog e sui social mi diceva io dicevo bisogna cederle con o senza il marchio a qualche banca nazionale aggregante sana ma non perché io abbia facoltà divinatoria perché è banale io ottenevo delle risposte dai veneti impossibile che quelle due banche si mettano assieme uno i due finiscano ad una banca che non è veneta e qui sto risentendo le stesse cose impossibile la banca più antica del mondo ma sti cazzi vogliamo dire ma sai quante entità più antiche del mondo hanno smesso di esistere nella storia dell'umanità cioè quindi è insopportabile veramente insopportabile io spero che avvenga quello che dici tu cioè che Draghi metta lo stop loss eh perché comunque tutta questa roba qui la paghiamo nei contribuenti c'è poco da fare pagheremo anche eventualmente si dovesse concludere con i credit pagheremo anche eh come dire il favore che chiediamo come come eh come cittadini e come azionisti indiretti di Monte dei Paschi perché ogni credit se la prenda e secondo me e e e credo che le condizioni poste da Orcelli in qualche modo verranno rispettate ci sarà una trattativa sicuramente però in qualche modo non vedo altra possibilità anche perché non è che ci sono i compratori fuori fuori dalla porta eh che non vedono di mettere mani su questo gioiello e quello è il punto di rimente però io vorrei dire un'ultima cosa eh il ruolo di Padoan allora io non mi iscrivo alla lista di quelli che dicono ecco lui è l'artefice il problema non è quello il problema è che in questo paese non esiste una normativa che imponga la decantazione e il raffreddamento contro le porte girevoli non esiste che in un paese che vuole evitare di essere assimilato ad una satrapia centroafricana un parlamentare della Repubblica si dimette e a stretto giro diventa presidente di una banca almeno un periodo di decantazione di un paio d'anni santo iddio ma la forma è sostanza non c'è nessuno questo paese la sinistra ha passato illustri a parlare male del conflitto di interesse di Berlusconi non ha mai fatto niente per il conflitto di interesse di Berlusconi sapendo che questo è un paese che affoga nei conflitti di interesse dal più alto all'uscere del ministero tutti affoghiamo nei conflitti di interesse il problema non è che Padoan abbia come dire lavorato dietro le quinte perché non ha lavorato dietro le quinte e lui è passato con questa leggiadra inconsapevolezza da un ruolo all'altro all'altro ancora perché non abbiamo una legge che imponga di stare fermi uno o due giri quando si smette una carriera elettiva nazionale o locale pubblica questo è scandaloso non la vogliono Mario non la vogliono non conviene a loro esatto eppure noi parliamo passiamo il tempo con i due partiti vocianti con la bava alla bocca che si puntano il dito sei stato tu sei stato tu e quelli al piano di sopra attovagliati mangiano alla faccia vostra che al piano di sotto sui social nella fogna dei social vi accapigliate questa è l'unica cosa di cui dovreste essere consapevoli nel vostro guelfi contro ghibellini da straccioni perché non riuscite a capire cosa c'è alla base di tutto e qual è la saldatura di interessi che sfoca la differenza tra le parti no sono come i ladri di pisa litigano di giorno e di notte lavorano assieme le cose stanno così le cose stanno così va bene ok Mario grazie abbiamo chiarito un po' la situazione e seguiremo le vicende spera certo magari ne parleremo quando il di sarà concluso sì 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 sicuramente grazie a te ciao 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 ciao